salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo già al terzo giorno della seconda settimana e oggi alleneremo vicipiti e precipiti direi di cominciare subito con il carlo bilanciere 40 kg una ripetizione e poi per tre serie e poi ovviamente scadiamo 10 kg facciamo una serie con 30 kg massimo di ripetizione martello col manubrio su panca dai seduti tre serie per max ripetizione 12 kg come prossimo esercizio abbiamo caldo al cavo basso faremo tre serie per 10 ripetizioni con 10 kg leggera ragazzi aumenteremo il peso più 4 kg ultimo esercizio per i bicipiti faremo il carlo sul ginocchio 3 serie per 10 ripetizioni con 12 cicli ultimo esercizio per i bici adesso cominciamo con i tricipiti faremo il french press con la t bar faremo 34 kg 1 2 ripetizioni massimo per tre serie e poi ultima serie meno 10 kg faremo 24 kg a sferimento Ora come prossimo esercizio faremo la French Press al capopasso ovviamente con 10 kg faremo 3 serie per 10-12 ripetizioni Come terzo esercizio faremo push down alla barra non con la corda questa volta 24 kg per 10 ripetizioni per 3 serie Prossimo esercizio abbiamo tricipiti alla panca 40 kg presa stretta ovviamente 3 serie per 8 ripetizioni 40 kg Prossimo esercizio 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 Grazie a tutti.